Eeeh, what's up a tutti i ciumi e benvenuti dai giocherini in questo nuovissimo episodio su Detroit Become Human Vediamo ragazzi se riusciamo a raggiungere almeno i 35 like per questo nuovo video Ed eccoci qua di ritorno dopo che la volta scorsa abbiamo vissuto momenti abbastanza intensi Non perdiamo più tempo, andiamo a continuare Ah, 6 novembre 16 e 30 Ah, ok, eccolo qua ragazzi E Marcus Ovviamente senza il led qui sulla tempia sembrano totalmente umani Quello penso sia l'unico segno di riconoscimento esterno, cioè perlomeno visibile a prima vista Ok Ok Ok, sì, questo ce lo ricordavamo ragazzi Controlla il simbolo, in che senso? Oh Che vuol dire? Oh, cerca i graffiti Perfetto, qua è pieno di graffiti Eccolo qua Ok, è questo qua il nostro simbolo ragazzi Ok, trova questi graffiti Va bene Chissà che ci entrano i graffiti con tutto questo ragazzi Ok, è una specie di felino quello che si vede Almeno, almeno credo E il punto è che qua i graffiti sono tutti rossi Mentre quello che adesso dobbiamo cercare è arancione, giallo, insomma un vario miscuglio Che figata, posso prendere la scala mobile? Non posso? Ma perché no? Marcus, sei capacissimo, oddio santissimo Non posso proprio scendere Ah, ok No? Ah Ah, è mescolato tra gli umani Ci ho provato a prendere la scala mobile Non mi ha fatto scendere E su, via Oh Ecco fatto, tanto comodo Pensate che roba Perché le andradi devono scendere a piedi? È una cosa così stupida Non lo so raga Vabbè Comunque Eccoci qua Oh Eccolo qua ragazzi Il graffiti che stiamo cercando adesso Salve gente Io sono un essere umano Non sono assolutamente Affolutamente Un androide Ecco qua Allora Il primo simbolo ce l'abbiamo Il prossimo simbolo Eccolo qua Tac Oh Indizio aggiornato Il prossimo C'è un muro ragazzi colorato Ah è qui mi sa È di qua Aspetta Oh Che carino Marcus Quando fa la sua corsetta Ed è anche verde Possiamo attraversare Up Ecco qua ragazzi Vediamo lì nell'angolo Aspettiamo ovviamente Pazientemente Da bravi esseri umani Il verde Perfetto Ce l'ho Ce l'ho Ce l'ho L'ho trovato Giangie Si Allora uno Ah eccolo qua Non l'avevo manco notato Ce l'ho passata sopra Se no non l'avevo visto Oh Un muro con dei robot disegnati Ma secondo voi che significa ragazzi Io non capisco quale possa essere Il nesso fra cercare questi graffiti E trovare sto benedetto gerico Chiamiamolo così Perché l'androider ha chiamato così Sì Cioè quello che ho notato Che è in comune Tra tutti questi graffiti È quel simbolo Che è una specie di Di quadrato Una roba del genere Però Boh Non riesco a capire Da dove poi abbiamo preso Questi graffiti Cioè come indizi Questi graffiti Quindi quello che dobbiamo cercare Adesso sarà da questa parte Vediamo un po' se mi sbaglio O no Ok ragazzi Quindi c'è la notizia di Carlo Ovviamente è diventata Super virale Perché comunque Carlo Sappiamo benissimo È famoso Quindi La cosa è andata male Direi di attraversare Vediamo un po' Se sto andando Verso la direzione giusta Perché effettivamente Non so se Se sto andando bene o male Ok Dietro una Ah Dietro una Una zona Che sembrerebbe essere Ok ecco qua Ah meno male Che culo ragazzi Sì È proprio qui Ecco fatto Allora Uno è qua E ok Mi chi ha tre da trovare Sica Dobbiamo fare Bene attenzione A Eccolo qua Un altro E Terzo Ah è qua dietro Non l'avevo visto Però Non me lo fa analizzare Ragazzi Ok Ah possiamo entrare Mizzica Meno male Perché C'è l'asse di legno Giusto là davanti E se non possiamo analizzarlo È inutile Fai attenzione Marcos Che se ci scoprono Non so se Ci va molto bene Ecco qua Ecco qua Il terzo Simbolo Tac Yeah Ok c'è il volto Di quello che Sembrerebbe essere Una donna Di colore Vediamo un po' Se Eccolo là Proseguendo di qua Per fortuna Forse siamo proprio Sulla strada giusta Ragazzi Anche perché Mi ha appena salvato La partita Tac Ah tre Mizzica Tre Ah eccolo qua Era ben mimetizzato E il terzo Dove sarà Non lo so raga Trovo il modo di raggiungere il tetto Sì infatti sarà dall'altra parte E adesso troviamo il modo ragazzi Ah forse usando questo Posso usare sto cassonetto Ok meno male E via Tira Marcos Tira Oh ecco qua Adesso ci arrampichiamo Molto A baci Madonna Mi zica che agilità Che cosa pazzesca Allora Dov'è L'ultimo Eccolo qua ragazzi Indizio aggiornato Perfetto Ci serve una parete rossa Sembrerebbe Possiamo buttarci di qua Io non lo so Oh merda Ce la fai ad arrivare fino lì Io non mi fido molto Di quel pezzo di cemento Che sembra Stare per crollare Da un momento all'altro Vuol dire Precostruisci Che vuol dire Che vuol dire raga Ah La previsione di quello che potrebbe succedere Che figata Ok niente Sarebbe troppo instabile Infatti Meno male Che ce ne siamo accorti Marcos Che dici E allora Ah Di qua invece E opla Sì Così sì Così ci arriviamo Pazzesco Pazzesco Che figata Raga Cioè riescono pure a calcolare Le probabilità Di come potrebbero andare Le cose È qualcosa di fantastico Tutto questo Scendiamo Eccoci qua E qua esatto La parete che ci interessa Marcos Chissà dove ci sta portando Tutto questo Ragazzi Allora Uno E ok Due E ok E il terzo Eccolo qua Ah forse dobbiamo entrare qua Sì È all'interno di un edificio Tutta sta cosa ragazzi È molto Molto interessante Molto intrigante Direi Allora Vediamo un po' Che percorso possiamo prendere Marcos Vediamoli qua Se saliamo di qua E poi saltiamo di qua Niente da fare Sarebbe troppo poco solido Per cui No D'accordo Di qua invece Oh E Oh Di qua probabilmente sì Vai pure avanti Ah Ah no Merda Sarebbe troppo instabile Quindi nemmeno Questo Ok se partiamo da qua Comunque C'è un'altra probabilità Non posso girare la telecamera Da qua Che non mi fa girare la telecamera In alcun modo Ah di qua Ok ok Bastava andare un po' più avanti Di qua sì ragazzi Questa è La cosa che ci interessa Sarebbe troppo in alto Eh ma che cavolo Non ci sono Non ci sono Ah da qua invece Da qua sì Ok Abbiamo trovato il nostro percorso Ragazzi Ci siamo Sì Vai Marcos Facci vedere come sei agile Madonna Figata Uff Yeah Graffiti successivi Allora È qua dentro Suppongo proprio di sì Sì è questa la camera ragazzi Questo Ah ecco Devo costruirlo da qua immagino Sì però Marcos State fermo Perché se no Ci siamo Ce l'ho È qua Ok Perfetto Il prossimo Dobbiamo continuare Ad avanzare Qua dentro Ok spostiamo questo E facciamoci strada Cioè il punto ragazzi Che non Continua ad essermi chiaro È come ha fatto Marcos Da una sola informazione Che gli ha dato Un android Dentro una discarica Ad arrivare a tutto questo Nel senso Il tizio gli ha detto Trova Gerico Ok E lui come ha fatto a capire Che questi graffiti Sono collegati A questa informazione Non lo so Aha Gerico È una È una nave abbandonata Oh mio dio La barca Nave Quello che è Madonna Oddio ragazzi Oh Era lì che mi godevo Il panorama Quasi mi prende L'infarto Per la miseria E adesso Ovviamente dobbiamo Fare un altro giro Che sfiga però Da qua Ce la faccio Oh Sì Prima mi prendesse Un acido Infarto Stavo dicendo Che qua Il panorama Era qualcosa Di meraviglioso Specialmente Col sole Lì tipo Che sta per tramontare O una roba Del genere Pazzesco Ok Ecco Meraviglioso Va bene Più di così Non posso esprimere Andiamo su Attenzione Alla capoccia C'è raga Che vogliamo di Di questa Scena Di questa immagine Meravigliosa Non possiamo dire Nient'altro Direi Oh merda Che è un percorso A ostacoli Che è sta cosa Queste cose appese Oddio Ho paura Ho paurissima Oddio Sta per crollare tutto Come lo sento Oddio Oddio raga No La scena è stata Qualcosa Di hebbico Ok A quanto pare Il cappotto L'abbiamo perso E vabbè Poco importa Insomma Tanto io Non credo Che gli androi Possano sentire Freddo Caldo Queste cose qua Almeno credo Se non sentono dolore Non possono manco Sentire Caldo E freddo Probabilmente Bene Questa ambientazione È degna Di un gioco Horror Diciamocela tutta Cos'è sta roba Una torcia Guarda a caso Abbiamo avuto La fortuna Oddio raga Ho paura A che cosa stiamo Andando incontro No ma veramente Cioè Qua Non si apre E va bene Qua si può aprire Vabbè che di solito Ragazzi Questi posti Sono sempre posti In cui ci sono Rumori Stra In cui ci sono Rumori strani A sinistri Androide in fuga È cara ragazzi Macchina in fuga Semina il panico Mamma mia Che esagerati Un avvencente Inseguimento di polizia Con tanto Di blocchi stradali E decine di pattuglie Sospettate un androide Il modello Pare soffre di un Malfunzionamento Estremamente raro Per fuggire la polizia Per più Non attraversare Un tratto Ero su strada Molto trafficato Eh si Oddio raga A me Perché ci sarebbe Un giornale Così aggiornato Qua dentro Cioè la notizia Di poche ore prima Perché c'è un giornale Così aggiornato Scusate Questa si può aprire No Ok Anche se sti rumori Non è che mi dicono Niente di buono Sinceramente Va bene Vorrei dire che Andrò proprio di qua Ehi là C'è qualcuno qui Ti ho visto Passare un attimo fa Mi ha preso pure Mi ha preso pure un infarto D'accordo Ok raga Ok raga No La musica È qualcosa di Di incredibile Va bene Ma posso entrare o no Ok E tanto è chiusa Questa Mi sa Ah è aperta Che pure Vabbè La cosa che è passata Di qua un attimo fa Deve pure essere Andata da qualche parte E suppongo Che la parte Sia proprio questa Oh merda Oh Ma perché deve essere Così impauroso Oh merda Ragazzi Ci siamo rotti C'è stato un bel volo Cavolo Benvenuto a Gerico Ok Completato all'82% Qua mi sono persa una cosa Forse col giornale Qua un'altra cosa Qua un'altra cosa E un altro paio di cose Fatto sta Che Cioè ragazzi L'androide che abbiamo visto adesso Non era tipo uguale All'androide che abbiamo ucciso Nella prima missione con Connor Non so se è una mia impressione sbagliata Se magari gli assomiglia solo Non lo so Non so che pensare Cioè Tutto sto tratto Mi è un attimo Tenuta col fiato sospeso Andiamo avanti 6 novembre Che ora 15.02 Comunque andiamo avanti e indietro Avanti e indietro Eccoci qua Fa' attenzione Hank Fa' pace con il terente Anderson Ma che ho fatto io di male Uffa Ho cercato sempre di essere cordiale con lui Ma veramente Allora c'è qualcosa Possiamo fare qua Sembrerebbe di no Quindi Oddio Non è che un po' se la prenda Perché mi vada a rintromettere No Perché questo qua è capace di Di qualsiasi cosa Hank Bravo eh Bravo 100% garantito Colpo sicuro No Si Scansioniamo Eh Ok Chi è sto tizio? Disoccupato Precedente Gioco d'azzardo illegale E frode Ma va Davvero? E l'unica cosa Dobbiamo scansionare Credo che sia Lascia perdere Ok Ci sto Ma no Dai Minchia Il lupo perde il pelo Ma non il vizio Come si suol dire Hank Cosa fai? Ma che problema hai? Ma voglio solo essere tuo amico Perché non fai come ti dico? Non seguirmi come un cagnolino del cazzo Voglio solo essere tuo amico Uffa Non essere così sgarbato Scusati Ma che dici? E' una cosa che sento davvero Pago io Dai Aspetta Sarà buona sta roba? Fammi vedere Hamburger Vabbè no Non dice niente di che altro Possiamo scansionare anche la bibita Cos'è? Soda XL Va bene Possiamo scansionare altro Ah pure il tizio Attenzione Precedenti Precedenti Resistenza all'arresto Mancata osservazione Le norme igienico-sanitarie Oh merda Anche fosse in te Non la mangerei quella roba Sinceramente Posso scansionare anche lui Che dice? E niente Quello che già sapevamo Va bene Ecco qua Eh Eh Non lasciare lì qualcosa Ah Non preoccuparti Mi segue ovunque Sì E allora Visto Consiglierei di non mangiarlo Sinceramente Magari se la prende Ha detto che ha fame ragazzi Eh Buon appetito Direi Buon appetito Grazie Oh Che carino Quando sorride Compagnia Non voglio allarmarla Con ai te Ma credo che i suoi amici Siano dediti ad attività Davvero Come se non lo sapesse Come è meglio crede Finché non fanno del male Non mi impeccio Va bene Ok ragazzi Meno male Meno male Dobbiamo mantenere Sulla strada Allora Riguardo a Connor In che senso Autostrada Aspetta Stamattina Mentre inseguivamo Quei degli altri Perché non mi ha fatto Attraversare l'autostrada Potevi finire Ammazzato Ah quindi vuol dire Che ti interessa di me Ah si si Certo Dai Dillo che mi vuoi bene Riguardo a Connor C'è qualcosa C'è qualcosa che vuole sapere Di me Io no Anzi Sì Perché avete questo aspetto Scemo e questa voce Del cazzo Ma cosa dici Gli androidi sono progettati Per operare in armonia Con gli umani Sia il mio aspetto Che la mia voce Sono concepiti Per facilitare La mia integrazione Ah ah Interessante Hanno topato Ma no Non è vero Se Connor è così bello E carino E gentile Devianti Forse vuole che le dica Cosa sappiamo dei devianti Mi leggi nel pensiero Oh Credo Crediamo che il software Di alcuni androidi Sia afflitto da una mutazione Che li porta a emulare Le emozioni di un umano Falla facile Grazie Non provano Vere emozioni Si fanno travolgere Da istruzioni irrazionali Che inducono Comportamenti imprevedibili Ok Le emozioni Mandano tutto a puttane Gli androidi Non sono poi Così diversi da noi E anche androidi Attenzione Argomento delicato Raga Posso farle Una domanda personale Tenente Perché odia Tanto gli androidi O i miei motivi Ti sei mai occupato Di devianti Si Qualche mese fa Un deviante Minacciò di buttarsi Dal tetto Con una bambina E io L'ho salvata Scommetto che hai fatto I compiti Vero Svolgere indagini Sulla mia vita Che dite Diciamo verità Verità So che al diploma È stato il migliore Si è distinto Per il suo lavoro Diventando il tenente Più giovane Di detroit So anche Che ha ricevuto Vari richiami disciplinari Negli ultimi anni E Che frequenta Spesso il banco Quindi dove vuoi arrivare Io direi Psicologico È un ufficiale di polizia Esperto E vorrei la sua fiducia Sono certo Che collaborando Potremo risolvere il caso Ok Ok Ho avuto un rapporto Su un deviante sospetto Ah mi zica È arrivato gli due secondi Diamo un'occhiata La lascio al suo pranzo Sono in macchina Se ha bisogno Ok Ok ragazzi È andata bene con Hank Per fortuna Bisogna pensarsela bene Su come rapportarsi Con le altre persone E Non gli è mai andata La precetta in basso Ok Mi scusi Perché Facevo rapporto Alla Cyber Life Ah 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 Hai deciso Di accamparti Nell'ascensore Arrivo Arrivo Sto arrivando Stai tranquillo Stai tranquillo Oh Hank Li vorrò troppo bene Ragazzi Ah Hank Cosa ne sappiamo Di questo tizio Già mi sto affezionando Un vicino Un vicino ha detto Di aver sentito Strani rumori Provenire dal suo piano Ah Pare che qui Non ci viva nessuno Ma Ha detto di aver visto Un uomo con un led Sotto il cappello Interessante Ah cazzo Se ci tocca indagare Ogni volta che qualcuno Sente un rumore Servono altri sbirri Effettivamente Vabbè Bussiamo Vediamo un po' Di che si tratta Ehi la C'è nessuno C'è nessuno Aprite Polizia di Detroit Qualcuno c'è Sta scappando Sta scappando Oh sta attento Hank Oddio Stai attento Hank Stai attento No allora Perché già mi sono affezionata Ragazzi come Come sempre eh Già mi sono affezionata Hank Vediamo un pochettino Che cosa abbiamo qui Qui sembrerebbe niente Ragazzi Ok E quindi Ok Hank Vado io avanti Non preoccuparti Ah Oh merda Ma cos'è sto posto Oddio Che schifo Ma cos'è Come fa ad esserci Un posto con così Tanti piccioni È assurdo Raga Trova la causa Del rumore Beh Siamo venuti per niente Qua ci sono Diecimila Buccioni Ok fammi analizzare Cos'è questo Manifesto Fattoria Urbana Campi nel cuore Della città Che manca Ah ecco Ecco l'ho trovato Madonna Non lo trovavo Lembo Di manifesto Carta Riciclata Spostato Di recente Ok Spostiamolo C'è un buco Oh E questo Cos'è È un libro Sembrerebbe Semplicissimo Cos'è Cos'è sto posto What the C'è qualcosa Sì Non lo so Sembrano degli appunti Ma sono Indecifrabili Stranissimo Infatti Allora Controlliamo bene Tutto ragazzi Che non voglio Perdermi Niente Di questo posto Sospettato Non mangia Vabbè Se è un androide Non ne ha bisogno Effettivamente Sono Gli stessi simboli Che erano nel libro Qui sul moro Ragazzi Attenzione Allora Qua Guarda Via C'è Cos'è sta roba Al sospettato Piacciono gli animali Selvatici Vive con 10.000 Piccioni Direi che gli piacciono Perché sennò Mi sembrerebbe Strano Insomma Allora Vediamo qua Cosa abbiamo Sono vestiti Allora Giacca militare Di seconda mano Iniziali RT RT Iniziali Forse Beh direi di sì Alle iniziali Sulla giacca Boh Questo cos'è Rupert Travis Contraffatta La patente di guida È falsa Bene Non siamo venuti Per niente Sospettato Aveva un'identità Falsa Allora Qua mi sa che abbiamo finito In questa stanza Perlomeno Qua cosa abbiamo È la stessa scritta R-A-9 Ragazzi È la stessa scritta Oddio Sai cosa significa? R-A-9 Scritto 2.471 Ma donna La stessa parola Scritta dall'androide Di Ortiz Nella Esatto Sì Perché Sono ossessionato Boh Bella domanda Sembra una specie Di labirinto Dovremmo scoprirlo Prima o poi Scrittura Ossessivo Compulsiva Anche questo È interessante Analizza Cosa c'è qua Cosa è sta roba Vediamo un po' Qui che c'è Sgabello di legno Coruto di recente Traccia di escrementi Di volatile E che Manca Qui Evidenziamo Spizzatore aperto Umido Usato di recente Colore nero Ok Ricostruiamo E vediamo un po' Cosa ci manca ragazzi Allora era qui Stava scrivendo È sospettato È stato qui di recente Ok Poi È caduto Ok È corso in soggiorno Abbiamo fatto apposta Quindi era qui che scriveva E poi è corso in soggiorno Madonna Che schifo Libri di carta Pensavo di essere L'unico in città D'averne ancora Vediamo un po' Questo cos'è Un bullone Led Ah Il led Oh caos C'è un led sul lavandino Mi sono aspettato Un deviant È ovvio che fosse un androide Nessun umano potrebbe vivere Con dei piccioni Del cazzo Infatti Sangue blu Boh Allora abbiamo raccolto Tutti gli indizi Del mancine Allora Vediamo un po' La causa del rumore Allora qua mi sa Che non abbiamo più niente Ragazzi È incredibile Il coglione D'abbaccio In questo vestito Beh se no Come farebbero ad essere così In salute Scusi Tenente Qui Tre indizi Sono impronte queste Ragazzi Impronte recenti Tracce di escrementi Di volatile Nessuna impronta digitale Ok Qua Cosa sono questi Dei segni Graffi Recente Tracce di acciaio zincato E che manca questo Gancio di metallo Rotto di recente 100% acciaio inossidabile Vediamo cosa è successo Allora Era appesa La gabbia E ok Ah ci ha sbattuto contro Il sospettato è corso Verso l'ingresso Ok Per cui Sospettato ci ha sentiti Entrare Ok Quindi è uscito Di corsa dal bagno Ha sbattuto contro La gabbia Perché poi Gli ha sentiti entrare Ed è andato di qua Sospettato E ancora Qui Ok Ok Siamo pronti ragazzi Andiamo a prenderlo tenente Stia tranquillo Ci pensiamo noi Forse è il caso Forza Connor Forza Forza Corri Madonna Oh Momentone ragazzi Momentone Anche questo Oddio Questi qua Veloce ma rischiosa Direi veloce ma rischiosa Ci proviamo Ci proviamo raga Ci proviamo Ok Via così Veloce ma rischiosa Vai Ci proviamo Oddio Ah Ah merda Forza così Dov'è Diretta ma affollata Andiamo Via Possiamo farcela Ragazzi Continua Connor Prendilo Oh Sì Così Cavolo Così Non riuscire a sfuggirmi Ti prenderò No Cavolo E adesso Via Di qua Oh Oh Aspetta Veloce ma rischiosa Di qua Connor Andiamo Scusate ragazzi Vi ho girato per il vostro lavoro Eh È lì sopra Lo vedo Lo vedo Lo vedo Ce la faremo Connor Oh Ok Avanti così Uh Ti prenderò Cavolo Oh No Oddio Muoviti 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 Mennaggia la miseria Per la levetta Porca vacca Ok Madonna No Minchia ho prenduto il quadrato Per la fretta Per la fretta Mi è venuta l'ansia Però mi sta bene l'ansia Oh Forza Connor Siamo ancora integri Dove caspita devo andare Dove è andato Dove è andato Non lo so È andato in qua Probabilmente sì No Probabilmente no Invece Ma cavolo vado Raga L'ho perso Ma dove No L'ho perso Oh Cazzo Era nostro Va bene Cavolo Dai Sappiamo come è fatto Non ci sfuggirà Forza Leviamoci dalle palle Per oggi ho visto abbastanza ortaggi Non doveva accadere Non sono programmato per fallire Non so Connor È colpa mia È colpa mia Che palle Cavolo È colpa mia Connor Minchia per aver sbagliato tre tasti Porca vacca Se no l'avremmo preso Minchia raga Mi dà una rabbia Ve lo giuro Vabbè abbiamo Mancato qualcosina A quanto pare Qui eh Continuo a non capire Cosa manco A certe Ah vabbè Qua erano le opzioni Di dialogo con Enche D'accordo Vedete qua Ho lasciato per esempio Due robe All'interno Dell'appartamento Continuo a non capire Cos'è che Manco Vabbè Anche oggi È stato Veramente intenso Ragazzi Queste sessioni di inseguimento Sono una cosa fantastica Questo video termina qui Grazie a tutti Un bacione Dovidocio a tutti ragazzi Ciao Vi ricordo ragazzi Che trovate in descrizione Tutti i link dei miei social Il link per fare delle donazioni Più il sito Digital24.it Dove potete fare I vostri acquisti video unici Grazie a tutti